Ok, benvenuti tutti quanti al Next Code Generation. Oggi parleremo di gestione dei progetti con la metodologia Zail insieme a Gianni Bussigni di Codice Plastico. Ciao Gianni. Vi presento un attimo Next Code Generation per chi è nuovo. Next Code è un'iniziativa pensata da CSMT e alcuni dei suoi partner che vedete qua. È un'iniziativa che punta a diffondere le nostre esperienze in ambito sviluppo software, tecnologia e informatica. Visto che comunque siamo in CSMT, un bel gruppo di aziende che pian piano si sta anche un po' espandendo, avevamo tante competenze abbastanza diversificate. Abbiamo pensato di provare a fare un incontro periodico mensile per cercare di parlare quello su cui siamo un po' più esperti. Next Code è dato appunto a fine 2019, però è partito ufficialmente nell'inizio del 2020. L'anno scorso siamo riusciti a fare comunque dieci incontri, per lo più purtroppo da remoto. Però ecco, siamo felici di ripartire quest'anno carichi e anche iniziamo aggiungendo qualche novità. Innanzitutto ricordiamo che ci sono i nostri partner, Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, Force Solid, Gexel, PQ Quadro e Trivia Informatica. Questi sono i partner che c'erano anche l'anno scorso, ai quali si aggiunge quest'anno anche Gammy Industries, un'agenzia digitale creativa di Brescia, molto forte anche loro su tematiche digitali e di business e poi Talent Garden che ben conosciamo tutti quanti, più un grosso network europeo in ambito innovazione, start-up e tecnologia. Un'altra novità rispetto all'anno scorso, abbiamo aperto anche i canali Instagram e Facebook dedicati all'Exceleration. L'anno scorso ci appoggiavamo prettamente al canale di, alla pagina CSMT, adesso trovate anche le pagine dedicate, quindi se andate a seguire sui social, troverete tutte le informazioni relative ai nostri appuntamenti, diciamo alle tematiche che trattiamo. C'è sempre anche il sito nescodegeneration.it e sul canale di YouTube CSMT Gestione potete trovare anche tutti i video dei talk precedenti. Nel frattempo sento che sta arrivando un sacco di gente, quindi benvenuti a tutti quanti. Allora, l'anno scorso abbiamo portato avanti un'iniziativa che si chiamava Next Code Challenge e praticamente ad ogni incontro abbiamo proposto una sfida di coding, dove era possibile partecipare singolarmente a squadre e possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e dovrà stilata e costantemente aggiornata una classifica che si è conclusa poi alla fine 2020. Quest'anno riproponiamo la stessa iniziativa. Come attribuiamo i punteggi? Per ogni soluzione corretta diamo un punto. Per la soluzione che riteniamo migliore diamo 5 punti, mentre per la seconda e la terza classificata 3 punti a pari merito. La valutazione che diamo si basa su correttezza del risultato, efficienza e un ritmo, sigla di programmazione, originalità soluzione e presenza di commenti. Tanti spesso ci hanno chiesto qual era la valutazione. La valutazione non è data solamente dalle prestazioni dell'algoritmo, ma da tutto un insieme di cose. Quindi alla fine poi dopo ci troviamo e un gruppo tra noi partner stabilisce su votazione interna qual è la soluzione, cioè quale è il punteggio per ogni voce di questo criterio di valutazione. Quindi poi l'output che viene fuori, studiamo la nostra classifica e quello è il risultato. Quindi fidatevi di noi, comunque diciamo lo facciamo per creare questa sfida e quindi non tanto per... non c'è nessuna malintenzione che purtroppo l'anno scorso potrebbe essere capitata secondo qualcuno, ma non è andato così. Ecco, cosa abbiamo proposto come... Come premium, l'anno scorso il premium ha vinto un abbonamento a Pluralsight per un anno. Pluralsight per chi non lo conoscesse è una piattaforma di corsi in ambito sviluppo software e tecnologie informatiche molto interessante e quindi diciamo anche quest'anno lo riproponiamo e speriamo di avere tanti partecipanti. La prima sfida di quest'anno... Allora, me la presento. Partendo da 1 e procedendo a spirale in senso anti-orario nel modo mostrato in figura, si forma una spirale quadrata di lato 7. È interessante notare che i quadrati dispari risiedono sulla diagonale inferiore a destra ma la cosa più interessante è che 8 dei 13 numeri che risiedono su entrambe le diagonali sono numeri primi con un rapporto di 8 su 13, circa 62%. Se un nuovo strato completo viene avvolto attorno alla spirale mostrata si forma una spirale quadrata di lato 9. Se si continua in questo processo qual è la lunghezza del lato della spirale quadrata per il quale il rapporto tra i numeri primi su entrambe le diagonali scende sotto il 10%? Quindi dovete darci questa informazione. Non preoccupatevi che pubblicheremo la challenge sia sul sito ma la invieremo anche per email a tutti gli iscritti. Per partecipare bisogna scrivere la mail a challenge.chioxsonnesscoallgeneration.it La scadenza è domenica 28 marzo 2021 Aspetta, domenica 28 marzo 2021 Sto controllando la data, se è giusta? Esatto. Come oggetto mettete il Next Call Challenge numero 1 il nickname vostro della squadra e chi ha partecipato alla challenge. Ovviamente il risultato è il linguaggio utilizzato ma in allegato dovete mettere il codice del programma che è obbligatorio per ottenere il punteggio. Volevo presentare un gioco che ho fatto io per Android insieme a un collega durante le vacanze di Natale è un gioco diciamo matematico un rompicato bisogna trovare la somma digitale nelle cifre proposte ovviamente c'è il tempo che è vostro nemico e aumentando il numero di livelli procedendo dal gioco aumentano sempre di più i numeri e cos'è la somma digitale? È la somma iterativa di tutte le cifre ci sono anche ovviamente le semplificazioni perché i numeri che sommati fanno 9 equivale a 0 in questa tipologia di operazione e niente, se volete cercarlo si scrive 9+, lo trovate su Play Store e dopo vi mando comunque anche il link in chat per chi fosse interessato. Ok, il prossimo talk sarà tenuto da Mauro Bennici di Ghostwriter AI e il tema sarà fondare una startup di intelligenza artificiale come CTO Come fare per candidarsi a tenere dei talk? Abbiamo fatto sul sito di NextCode la pagina Call for Speakers e se siete interessati a fare dei talk abbiamo deciso quest'anno di aprire talk anche agli esterni ovviamente voi potete mandare la vostra proposta e poi la valuteremo insieme però ci fa piacere sentire quali sono le vostre tematiche e dopo insieme al resto dei partner decidiamo se il tema è un tagliato per NextCode oppure diciamo no comunque vi daremo il nostro feedback e quindi scrivetesi ok mi sa che ho parlato fin troppo quindi lascerei la parola a Zanni non ti sentiamo ok sì, muto un attimo mi senti adesso? adesso sì, ok perfetto perfetto vai ok buonasera a tutti grazie di essere di essere partecipare a questo mio talk non sono uno speaker professionista quindi perdonatemi eventuali defiance per chi non mi conosce sono Gianni Bossini sono software engineer presso codice plastico sono da sempre appassionato di sviluppo software architetture ma anche di metodologie agili oltre anche a tante cose magari più interessanti di cosa parleremo stasera? innanzitutto voglio condividere con voi cosa mi ha spinto, le motivazioni quindi che mi hanno spinto a parlarvi di approfondire Agile PM quindi di parlarvene vedremo un po' di storia di cos'è questo questo Agile diciamo per chi fosse nuovo diciamo nell'argomento vedremo cosa vuol dire essere Agile e metteremo a confronto alcune metodologie vedremo poi entriamo nel dettaglio della metodologia Agile PM e vi esporrò quali sono i vantaggi e gli svantaggi che secondo me ha questa metodologia e anche non adottando completamente questa metodologia cosa potremmo portarci a casa diciamo per migliorare la gestione dei nostri progetti infine spazio per le domande allora innanzitutto questo talk è essenziale affinché la community Next Code Generation possa fregiarsi dell'aggettivo innovativa se una community non ha almeno un talk all'anno che parla di Agile mi spiace ma non può essere considerata innovativa soprattutto in questo periodo in cui c'è forte hype sul tema questa invece è la frase che mi ha spinto ad indagare questa metodologia ogni problema che ho risolto nella mia vita è diventato una vera e propria regola che mi è servita in seguito per risolvere altri problemi è una frase di Cartesio che proprio pensando un po' alla mia esperienza hai messo un anziano quindi qualche anno di esperienza ce l'ho mi sono accorto che tante volte si parte adottando un approccio e poi lo si migliora in modo iterativo si ha grande soddisfazione vedendo che questo approccio la gestione del nostro progetto il nostro prodotto migliora introduciamo migliorie ma spesso dopo averle introdotte per degli esperimenti ci accorgiamo sostanzialmente che quello che abbiamo introdotto è sostanzialmente acqua calda cioè diciamo che abbiamo introdotto questo nuovo step nel nostro processo di gestione del processo ah caspita però c'era questa metodologia che già lo faceva capita se l'avessi letto prima forse avrei potuto diciamo partire già col piede giusto e non diciamo rincorrere adeguando il mio processo per migliorare continuamente ed è proprio questo che mi ha portato ad indagare già il PM perché? perché i nostri progetti i miei progetti diciamo i progetti sui quali ho lavorato li abbiamo strutturati in base all'esperienza pregressa al contesto nel quale il progresso nel progetto che veniva deployato alla formazione si va a una conferenza si legge un link si parla con un amico e quindi si aggiunge qualcosa al processo oppure agli insuccessi ho visto che facendo questa attività il progetto l'ho gestito meglio oppure l'ho gestito peggio quindi il prossimo progetto lo gestiamo con o senza queste questa feature o meno in base proprio alla mia esperienza per parecchio tempo ho lavorato seguendo la metodologia Scrum ed è una metodologia fantastica molto flessibile adatta alla gestione del prodotto però a volte ci si è trovati a scontrarci col fatto che la metodologia non era del tutto rigorosa questo è naturalmente un bene perché hai perso la condivisione scusami Giardi ok questo diciamo è sicuramente un bene il fatto che sia flessibile e poco rigorosa perché ci permette di essere più snelli però poi fa nascere a volte dei problemi ad esempio il fatto di magari documentare poco poi ci porta riprendendo in mano un progetto dopo parecchio tempo a dire caspita non mi ricordo più colui che l'ha seguito se n'è andato e quindi diciamo ad avere dei buchi oppure avere magari dei silos che hanno tutto quello che serve per il progetto nella loro testa ma arriva una risorsa nuova e questa persona deve essere diciamo drenata per poter trarre conoscenze per cui ne parliamo perché lavoriamo tutti alla grandissima siamo tutti grandissimi professionisti mi auguro per tutti diciamo che le aziende stiano crescendo velocemente anche se purtroppo in questo momento tra pandemia e crisi non è facile diciamo anche la parte organizzativa però tenere monitorato l'aspetto organizzativo è importante tanto se non forse un pochino di più dello scrivere bene il codice e questo lo dico diciamo un po' a scapito dell'azienda a cui lavoro dove il codice viene scritto benissimo però avere diciamo un'organizzazione ben strutturata è molto importante perché ci consente di fare quel next step che accanto a un codice ben scritto ci consente di gestire un progetto mentre lo stiamo eseguendo e di riprenderlo in mano in futuro in modo veramente impeccabile quindi vediamo un po' di storia di questo agile cos'è questo agile nel 2001 nel febbraio del 2001 questi 17 personaggi hanno deciso di trovarsi in un resort sulle montagne dell'Ujuta per discutere di come migliorare lo sviluppo software tra questi personaggi chi si occupa di software conoscerà certamente dei personaggi molto influenti abbiamo diciamo sviluppatori architetti molto conosciuti come Bob Martin conosciuto come Uncle Bob Rom Jeffrey persone diciamo che hanno fondato il blog la Gang of Four che diciamo ha teorizzato molti dei pattern che vengono applicati ogni giorno nello sviluppo software tra questi come dimenticare Martin Fowler ricordatevi che tutto ciò che state facendo oggi e che sembra innovativo a noi Martin Fowler l'aveva detto probabilmente 15 anni fa quindi veramente persone molto molto lungimiranti e oltre a sviluppatori anche personaggi di spicco che hanno poi dato via a metodologie agili tra questi ricordiamo Sutherland e Swaber che sono i fondatori di Scrum e anche Eri von Benekum che è l'ideatore del DSDM quindi di Agile PM questi 17 individui appunto si sono trovati in questo resort hanno discusso hanno scritto sulla lavagnetta tutte le loro buone intenzioni e da questi due giorni diciamo di meeting è nato il manifesto dello sviluppo software agile che come vediamo ha due a quattro valori che sono divisi in due parti quella rossa che sta sulla sinistra e quella nera che sta sulla destra e cosa dice dice che gli individui e le interazioni sono preferibili ai processi e agli strumenti che un software funzionante è preferibile a una documentazione molto esaustiva che collaborare col cliente è meglio di contrattare a livello di negoziare a livello contrattuale e che rispondere alle esigenze del cliente quindi ai cambiamenti è meglio di seguire un piano quindi qua vi dico subito una cosa che per anni ho prima sposato io e poi mi sono accorto diciamo della mendacità dell'informazione perché molto spesso si dice che in già non bisogna scrivere la documentazione il manifesto non dice assolutamente questo il manifesto dice che un software funzionante è preferibile a una documentazione esaustiva quindi come dicono gli inglesi è uno shift left cioè quello che c'è a sinistra è più importante di quello che sta a destra ma quello che sta a destra serve comunque parlando di documentazione quello che già il manifesto vuole dirci è che se devo fare un software piuttosto di perdere del tempo per scrivere un tomo di 600 pagine nel quale viene spiegato nel filo per segno che aprendo una tendina e selezionando un item della tendina viene mostrata una finestrella nella quale devo inserire bla 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 se noi produciamo un software che lavora come e nelle intenzioni del nostro cliente come vuole il nostro cliente e nelle sue intenzioni abbiamo colpito poi una documentazione serve comunque a corredo del software serve comunque un help all'interno del nostro software però non sarà il tomo di 600 pagine così come negoziare a livello contrattuale non dà lo stesso valore rispetto al collaborare con il cliente anche se partiamo con un progetto agile è comunque necessario che nel contratto venga comunque scritta la modalità di sviluppo perché perché se noi dobbiamo collaborare con il nostro cliente ogni settimana e ogni settimana magari è poco per portare avanti le attività e per chiarire eventuali dubbi prendere decisioni il cliente deve essere a conoscenza fin da subito dell'effort che avrà per la gestione di questo progetto quindi un contratto un'accettazione di questa modalità serve sempre idemil rispondere ai cambiamenti rispetto a seguire un piano l'agile non è il non ha una data di scadenza ma è ti garantisco che riesco a garantirti il massimo valore per quella data di scadenza nel rispetto delle reali necessità del cliente quindi rispondendo in modo diciamo in modo durante l'evoluzione del processo a ciò che serve il cliente e infine ma non per ultimo naturalmente le interazioni e gli individui sono molto più importanti dei processi e degli strumenti che comunque servono perché non è che si fa quello che si vuole processi e strumenti servono ma il dialogo e la collaborazione sono sicuramente da preferire rispetto a processi e tool quindi cosa significa essere agili essere agili significa adottare uno stile di lavoro che ci consenta di essere flessibili di assicurare che la soluzione finale rispetti le reali necessità del cliente ma veramente il valore che vuole il cliente non mi serve una login e poi quello che andiamo a fargli non era veramente quello che gli serviva far emergere veramente di quella login cosa serve al cliente magari serve una profilazione dell'utente più che una login posticipare le discussioni e le decisioni al momento in cui bisogna prendere una decisione cioè i dettagli li discutiamo quando servono non li discuto al giorno zero se il progetto mi durerà un anno perché nel momento quando sarò a un terzo del progetto mi troverò a dover dire caspita la decisione che avevamo preso al tempo zero adesso non è più fattibile perché è fallita l'azienda che doveva darmi consulenza e quindi non posso più andare avanti per cui discutiamo e prendiamo decisioni nel momento in cui servono e lavoriamo e lavoriamo con il cliente a stretto contatto con il cliente per tutta l'evoluzione del progetto cosa non significa essere agili e quindi se sentite qualcuno che dice ah ma io sono agile e quindi non faccio questo bacchettatelo sulle dita non significa non scrivere la documentazione non significa che ognuno è libero di fare ciò che vuole non significa che siamo tutti uguali che non ci sono ruoli i ruoli ci sono e come poi se non si voglia averli è un altro paio di mani che si dice però i ruoli ci sono che nessuno controlla che nessuno mette pressione assolutamente non è vero perché l'obiettivo è quello di riasciare nei tempi e con i costi definiti dal cliente e soprattutto una cosa sbagliatissima è questa personalizzazione dell'ata di consegna cioè che non c'è un'altra di consegna a volte si sente dire ok abbiamo una data di consegna e noi non siamo proprio agile sbagliatissimo è proprio il fatto di voler rispettare quella data di consegna che ci deve portare a scegliere una metodologia agile e la cosa più brutta è il se non posso rilasciare oggi rilascerò domani posso anticipare una data di consegna assolutamente no se preferiamo questi sette punti ai quattro precedenti allora la metodologia giusta è la FDFDD non so se qualcuno di voi la conosce è una metodologia che è stata molto in voga qualche decina di anni fa ed è la figli dei fiori driven development quindi una metodologia molto molto permissiva che però a qualcuno ha dato grandi soddisfazioni ad altri un po' meno vi do questo piccolo consiglio non possiamo dire noi usiamo agile perché non si usa agile noi siamo agili perché abbiamo sposato i quattro punti del manifesto e noi usiamo una metodologia o un framework dell'Agile che andiamo a vedere ma prima di parlare di metodologie vediamo un po' che differenza c'è tra un prodotto e un progetto perché poi la metodologia di cui parliamo stasera quindi Agile PM si sposa più alla gestione del progetto che alla gestione del prodotto le caratteristiche di un prodotto sono innanzitutto che il ciclo di vita ha un inizio ma non una fine il prodotto evolve nel tempo ed evolve con una serie di funzionalità che vengono prese e priorizzate all'interno di un backdoor dal quale attingere e dal quale possiamo mettere in produzione queste attività questo nella teoria ma poi anche un prodotto ha al suo interno dei progetti perché cos'è un progetto il progetto è un qualcosa che ha un carattere temporaneo quindi che ha una data di inizio e una data di fine ma soprattutto che introduce un cambiamento un bug fix non è un progetto un cambiare le voci che ci sono in una tendina non è un progetto quello è naturale evoluzione di un prodotto ma aggiungere un qualcosa al nostro prodotto che entro una data di consegna mi deve dare un qualcosa di più in modo veramente tangibile può essere definito nel contorno di un progetto inoltre un progetto dovrà basarsi su un team cross funzionale quindi dovrà avere tutte le skill necessarie per l'analisi e l'implementazione del progetto il progetto ha un carattere di unicità quindi ciò che imparo da un progetto devono essere quelle lesson learned che mi serviranno per non fare gli stessi errori o trarre i benefici del progetto precedente inoltre una cosa che mi affascina molto dell'aspetto progettuale è la gestione dell'incertezza ogni progetto ha un'incertezza un'incertezza che può essere pianificata all'inizio accettata all'inizio diciamo fatta emergere all'inizio oppure che può emergere nel corso dell'evoluzione del progetto il responsabile dei rischi è di solito il project manager ma la cosa che mi affascina di più è che i rischi possono essere positivi o negativi positivi significa che sono opportunità ad esempio se introduco questa funzionalità ho il rischio che da domani mi raddoppino i clienti è un'opportunità che ho questa opportunità però ha anche degli aspetti negativi se mi raddoppiano da un giorno con l'altro i clienti potrebbe cadermi tutta l'infrastruttura sono noti i recenti rilasci di applicazioni o di sistemi per la gestione di tematiche legate alla pubblica amministrazione che hanno avuto sicuramente opportunità da un giorno con l'altro abbiamo avuto milioni di utenti dall'altro però qualche minaccia cioè i sistemi sono andati giù e la cosa che mi ha colpito durante diciamo l'investigazione di questa metodologia ma questa è in generale una peculiarità del progetto è che le opportunità si possono rifiutare cioè io posso rifiutare di aggiungere una feature a un al mio progetto nonostante questa mi porti un 50% in più di clienti mentre le minacce si possono accettare cioè ok mi viene segnalato da un cliente che c'è un bug però siccome è l'unico cliente che fa quel giro lì va bene lo accetto c'è un workaround accetto la minaccia eccetera certo se poi un domani un altro cliente trovasse questa minaccia sarebbero due i clienti però è una cosa che è un rischio che decido di accettare le caratteristiche del project management sono quella di controllare che è un'attività event based o driven e diciamo non è ben vista nel mondo agile perché vuol dire che a fronte di un evento deve essere presa una decisione che richiede un'approvazione è molto meglio nel mondo agile è il monitoring che è un'attività time based nel quale tutti coloro che partecipano al progetto hanno a disposizione dei tool delle dashboard dei radiator nei quali è possibile monitorare l'andamento del progetto e possono essere prese decisioni naturalmente se arriva un bug devo prenderla comunque una decisione se rifiutare o accettare la risoluzione del bug quindi attività event based nel project management ce ne saranno comunque però l'attività di monitoraggio è sicuramente più apprezzata e non richiede diciamo un intervento puntuale la pianificazione è sbagliatissimo dire che nella agile non si scrivono i piani ma si fanno dei delivery plan e per il project management è molto importante saper delegare e saper motivare tutti i membri e anche gli stakeholder parlando di metodologie abbiamo diciamo due mondi l'approccio light e l'approccio esteso l'approccio light si applica solitamente allo sviluppo di prodotto e naturalmente liberi di smentirmi però la gestione di un prodotto passatemi il termine è easy cioè non dove le risorse coinvolte o i team coinvolti sono limitati quindi le risorse si riescono a gestire tranquillamente con la flessibilità e la semplicità della metodologia Scrum Kanban Lean o XP se però il progetto inizia a essere corposo complesso se il prodotto che dobbiamo gestire implica diciamo la collaborazione con diversi team con diverse aziende e lo sviluppo del prodotto impatta impatta diverse diversi team di sviluppo allora abbiamo approcci più estesi come il DSDM SAFE o l'Emergente LES come detto quindi dividendo in tre settori la gestione di un'azienda abbiamo un livello di programma che diciamo è a livello aziendale ciò che dà la vision dell'azienda e ciò che deve essere implementato a livello di programma deve essere calato poi a livello implementativo in progetti progetti che poi hanno una fase di sviluppo che è la terza più bassa riga diciamo del grafico che mostro e vediamo che metodologie come Scrum XP Lean DevOps e Kanban coprono la parte di sviluppo vanno leggermente nella parte di project management ma proprio il minimo per dare aggancio ad altri processi ad altri tool mentre il DSDM che è composto dalle due righe rosse che vedete che sono Agile PGM per la parte di programma e Agile PGM per la parte di progetto e quindi di sviluppo consente di comprire l'intera gestione della nostra azienda quindi entriamo più nel dettaglio di questo DSDM DSDM è l'acronimo di Dynamic System Development Method è un consorzio nato nel 1905 ed è usato principalmente come detto per la gestione di progetti qualsiasi tipo di progetto io vi parlerò stasera di progetti software perché quello è il mio ambito di lavoro e quindi non mi permetto di entrare in altri ambiti però è talmente generico che consente diciamo che dà solo degli input che consentono la gestione di qualsiasi progetto dipende appunto consente di gestire la dipendenza da altri progetti consente l'integrazione con il programma e quindi il portfoglio aziendale ed è ideale e semplifica il project management questi due queste due piramidi ci aiutano a capire la differenza tra l'approccio di SDM e l'approccio del project management tradizionale nel project management tradizionale ciò che veniva richiesto dal cliente sono le feature mi serve il login perfetto facciamo il login lo voglio di una qualità estrema voglio che da tutto il mondo accedano con le teste perform ma lo stesso login dimmi quanto costa e in quanto tempo riesci a farvelo e qui inizia la fase di contrattazione per cui per farti un login a cui può succedere tutto il mondo con le stesse performance eccetera devo andare nel cloud su tutte le region che mi mette a disposizione AWS o Azure o il cloud provider che vogliamo devo avere tutta un'infrastruttura di deploy diversa da deploy il mio sito sul raspberry che ho accanto la tastiera e quindi ti dico il tempo e il costo e qui inizia la contrattazione del tipo sì però un anno per farmi solo un login è troppo ok allora ti abbasso la qualità facciamo così dato che i tuoi clienti sono quasi tutti in Italia lo deployiamo solo in Italia ti va bene faccio il deploy manual quindi andiamo in base delle feature che il cliente ci indica andiamo a gestirci costi e tempi il DSDM inverte questa piramide e dice dimmi nei tempi e nei costi che tu desideri con la qualità che tu desideri cosa vuoi mettiamo in fila queste feature le mettiamo in priorità e vediamo nei tempi e nei costi con la qualità che tu vuoi cosa riusciamo a fare ti accorgi che quello che riusciamo a fare nei tempi nei costi con la qualità che tu desideri è troppo poco non è sufficiente per dare il valore che tu ti aspettavi da questa feature dobbiamo modificare fin dall'inizio costi e tempi quindi se per fare quella super login che tu mi stavi chiedendo serve un anno per avere la qualità che hai serve un anno ma non andiamo a contrattarla andiamo a definire subito quali sono costi e tempi per avere le feature che tu vuoi fissare costi e tempi fa proprio emergere il reale valore che il cliente vuole trarre da questa feature naturalmente come tutte le metodologie agile hanno tutta la parte passatemi il termine un po' fuffosa e quindi il DSDM ha questo tempietto che spiega tutto ciò che coinvolge la metodologia il tempio si basa su una base diciamo una solida base granitica di common sense e pragmatics quindi di buon senso e pragmatismo cosa significa che se io sono il massimo esperto mondiale di database e devo rilasciare il login in un mese non posso far dilatare i tempi di progetto perché per fare quello che chiede il cliente devo avere l'ultima versione del database in versione enterprise e bla 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 perché io sono il massimo esperto ma dobbiamo tutti mettere del buon senso del pragmatismo affinché le nostre conoscenze verticali e la nostra professionalità porti a rilasciare quello che vuole il cliente nei tempi e nei costi del cliente su questa solida base granitica abbiamo delle colonne che sono process people product and practices sulle quali poggiano i principi e la filosofia partiamo subito dalla filosofia il DSDM si pone come obiettivo quello di lavorare per fare emergere il massimo valore richiesto dal cliente in che modo avendo chiari fin da subito gli obiettivi del business rilasciando frequentemente in modo che il cliente possa in modo incrementale provare le funzionalità magari metterle già anche in produzione e iniziare a raccogliere delle metriche e sviluppare questo prodotto grazie alla collaborazione di persone motivate e con la giusta autorità per prendere decisioni senza dover appunto rimandare decisioni a chi sta sopra i principi che quindi sono leggermente sotto diciamo sulla base della filosofia sono otto e si dividono in principi del cosa e i principi del come cosa vogliamo dal nostro progetto vogliamo che il progetto rilasci sia focalizzato sulle esigenze del cliente quindi rilasci il vero valore del cliente venga rilasciato in tempo venga rilasciato collaborando in modo frequente con tutti gli stakeholder e i membri del team di sviluppo e non venga mai compromesso alla qualità cioè la qualità che viene definita all'inizio del mio progetto deve essere quella che viene portata avanti fino alla fine come facciamo questo rilasciando in modo incrementale ma su delle fondamenta solide su delle firm foundations vedremo poi cosa significa questa frase lo sviluppo dovrà essere iterativo quindi non parto a sviluppare una funzionalità e la porto al termine poi fatto ma la sviluppo e magari sviluppo ciò che mi serve in una prima fase e poi vado ad aggiungere tutti i dettagli nelle iterazioni successive comunicando in modo continuo e chiaro sia all'interno del team che con il cliente ma non sovracomunicando non devono arrivare le comunicazioni di tutti a tutti perché altrimenti si sovracomunica devono arrivare le comunicazioni ai canali giusti in modo tale che tutti siano allineati sul progetto poi se uno vuole andare a vedere tutta la storia tutte le decisioni prese deve essere garantita la trasparenza affinché chiunque possa andare a recuperare informazioni magari anche di business anche se si sta occupando delle query del database però non si deve sovracomunicare e dimostrare controllo cioè in qualsiasi istante qualunque membro del team e qualunque stakeholder deve essere in grado di capire a che punto è l'evoluzione del progetto senza trovarci a un mese dalla consegna su un progetto che ha durato sei anni a dire oh caspita siamo in ritardo e non riusciamo a consegnare i fattori di successo affinché la processione di SDM abbia successo sono che tutte le persone coinvolte nel progetto abbraccino l'approccio di SDM per far ciò esiste un documento che poi vedremo che si chiama PAC è un questionario nel quale le persone devono tutti coloro che sono coinvolti devono rispondere sì sono d'accordo sono parzialmente d'accordo o non sono d'accordo a delle frasi e questi questionari consentono al project manager di capire se l'approccio è idoneo per quel progetto e per quel team oppure se è meglio un'altra metodologia per evitare di trovarti dopo tre mesi che abbiamo iniziato il progetto a dire sì caspita ma questa metodologia è troppo rigida non riusciamo a gestirla e di dover inventare l'acqua calda modificando la metodologia per renderla più idone ai nostri scopi oppure il project manager potrà cogliere da questo documento da questo PAC le informazioni che gli servono per capire i punti di criticità e quindi dire ok vedo che c'è una poca conoscenza di questo aspetto della metodologia farò dei corsi diciamo istituirò dei corsi affinché tutti vengano informati di quali sono i vantaggi e gli svantaggi e come si fanno determinate attività il team di sviluppo deve essere effective cioè deve avere l'autorità per prendere decisioni deve essere stabile non è vero che aggiungendo e rimuovendo persone ogni settimana le cose vanno bene siamo in ritardo vediamo dentro dieci persone no cioè siamo in ritardo portiamo dieci persone beh ancora più in ritardo il team dovrà avere tutte le skill necessarie per affrontare ogni aspetto del progetto e la dimensione dovrà essere di 6-8 massimo 10 persone perché altrimenti poi lo sforzo per la gestione del team diventa più significativo rispetto a quello di portare avanti il progetto il business dovrà essere coinvolto in tutte le fasi del progetto lo sviluppo dovrà essere iterativo e il rilascio incrementale sempre sotto la supervisione magari automatica di tool di testing integrati che verifichino che ogni rilascio non ne va ad introdurre delle regressioni e il management deve essere visibile a tutti quindi deve essere trasparency non ci devono essere agende nascoste ci deve essere trasparenza come detto prima senza sovracomunicare vediamo la prima colonnina del tempietto che è quella relativa ai processi che sono il ciclo di vita del progetto e qui secondo me chiunque applica una metodologia agile a parte una nomenclatura diversa e una definizione magari delle fasi però sono tutte fasi di un progetto che tutti noi attraversiamo quindi mi aspetto che al termine di questa prima sezione nessuno di voi sia caduto dalla sedia la prima fase è la fase del project nel quale sostanzialmente il titolare dell'azienda dice dobbiamo fare l'app mobile perché ce l'hanno tutti e dobbiamo farla anche noi perfetto quindi parte l'incipit del quello che mi serve e in questa fase di pre-project dovrà essere descritto un po' quali sono gli obiettivi che voglio dal mio progetto la fase successiva si chiama feasibility quindi è una fase che dura 4-6 giorni nel quale io società di consulenza io team di sviluppo prendo le richieste che mi vengono fatte diciamo così dall'alto e vedo se sono fattibili in questi 4-6 giorni ad esempio viene chiesto a codice plastico di realizzare il reattore del razzo che ha portato per Severance o Marte probabilmente il codice plastico dirà no non abbiamo le competenze per farlo quindi dalla feasibility usciamo con un no magari in meno di 4-6 giorni se però la NASA dovesse chiedere mi fate il sistema per la gestione diciamo dei dati che arrivano da Marte e la gestione diciamo dei dati ma potremmo anche dire di sì quindi in questi 4-6 giorni vediamo cosa c'è sul piatto poi naturalmente se la NASA ci dice sì ma dovete farcelo in Fortran magari a questo punto diciamo di nuovo di no oppure diciamo di sì perché vogliamo imparare Fortran per cui da questa fase di feasibility esce il sì o no e le condizioni alle quali possiamo farlo e quindi usciranno sostanzialmente dieci punti diciamo dieci storie che veramente a grandi linee descrivono come affronteremo questo progetto se questa fase di feasibility se il report che andiamo a dare del feasibility è accettato si va alla fase di foundation che dura 4-6 settimane e nella quale si entra più nel dettaglio di ognuna delle storie delle dieci storie che sono uscite dalla fase di feasibility e cosa si fa in questa fase di foundation si entra più nel dettaglio ma non troppo perché siamo agili quindi il dettaglio lo si va a scavare nel momento in cui serve veramente però iniziamo a dire cosa ci serve sì ci servirà probabilmente un cloud provider cosa abbiamo siamo forti su Azure sì però caspita vogliamo provare a utilizzare AWS perfetto AWS proviamo a buttarci dentro quello abbiamo le skill necessarie no ci servirà probabilmente della consulenza quindi andiamo a dare proprio tutto ciò che ci serve per strutturare il progetto a livello tecnico ma anche a livello di management quindi inizio a dire ok possiamo rilasciare questo progetto in quattro iterazioni potremmo strutturare indicativamente la prima iterazione su tre iterative development quindi tre sprint sostanzialmente e poi le altre vedremo quindi entriamo più nel dettaglio ma rimanendo sempre abbastanza generici dopo queste quattro o sei settimane torniamo a dare un report che dice ok riusciamo a farti il progetto in questi tempi indicativamente con questi costi cosa dici ce la facciamo a questo punto abbiamo il sì o il no uscendo dalla fase di foundation non abbiamo ancora scritto una riga di codice però usciamo con l'indicazione del ok procediamo procediamo sono stati approvati i costi sono stati approvati i tempi è stato approvato il piano di rilascio poi come verrà implementato ogni singolo evolutionary development lo andremo a vedere quando dovremo farlo però il fatto che lo rilascieremo in un anno su quattro deploy su quattro incrementi è stato accettato il cloud provider tutto ciò che serve la gestione i tool che servono per la gestione sono stati approvati perfetto abbiamo l'ok abbiamo il timbro partiamo partiamo si esce dalla fase di foundation con la definizione del delivery plan ma anche della prima time box quindi del primo sprint quindi di quello che verrà fatto nel primo ciclo di sviluppo infatti dalla foundation andiamo a esplodere le 10 storie che escono dalla feasibility e ne avremo circa un centinaio questo centinaio di storie mi permettono di avere una priorità in base a proprio quello che vuole il committente e di andare a prenderle dalla più importante a quella meno importante l'evolutionary development è un ciclo di rilascio diciamo di un incremento suddiviso in sprint alla fine dei sprint che si sono stati definiti dal delivery plan andremo a fare una review di quello che è stato prodotto e se rispetta ciò che voleva il committente andremo in una fase di deploy a questo punto siccome siamo solo al primo incremento dobbiamo rilasciarne almeno altri tre se continuiamo a lavorare non ci viene tolto il progetto dovremo tornare a controllare la foundation e qui quello che dicevo prima build incrementally from firm foundation cioè dovremo andare a ricontrollare le 100 user story per vedere se le priorità sono cambiate se le priorità non sono cambiate riprocedo con quello che diciamo mi ero fissato altrimenti si vanno a riprendere le storie in base alla priorità le si spezzettano in task e le si implementa alla fine dei quattro incrementi faremo l'ultimo deploy e entreremo nella fase di post project che è quella nella quale andrò a raccogliere le metriche per la gestione del mio progetto e quindi a capire se il progetto ha avuto successo o no e come deve evolvere nella come deve evolgere se e come deve evolgere il progetto cioè alla fine se non troviamo vita su Marte probabilmente di sonde non le manderemo più quindi quella è la metrica che useremo per capire se procedere col progetto per severance quindi le fasi del process del nostro progetto e del nostro dell'applicazione del DSDM al nostro progetto sono queste e pre project feasibility e post project vengono attraversate una sola volta mentre foundation evolutionary development e deployment vengono attraversate n volte in base a quante sono gli incrementi che andrò a definire quindi siete ancora tutti seduti siete ancora tranquilli e dite vabbè sì questo qua è l'acqua calda di cui parlava prima è il geyser di Yellowstone adesso entriamo un po' nella parte più più ostica i ruoli probabilmente alla termine di queste poche slide qualcuno inizierà a staccarsi dalla call le persone coinvolte in un progetto hanno sostanzialmente quattro tipi di interessi interessi di business tecnici di gestione e di processo e responsabilità e tre tipi di responsabilità responsabilità di conduzione del progetto di dare forma alla soluzione che vuole il cliente e di dare assistenza specialistica e guida al team quindi pochi interessi poca responsabilità tanti ruoli tutti questi pallini che vedete colorati sono i ruoli che devono essere definiti dall'applicazione del DSDM ma vedrete che alla fine si tratta solo di dare un nome o un cappello ad attività che vengono comunemente fatte mi piace pensare questa infografica come l'angelo diciamo che fanno i bimbi quando si sdraiano nella neve muovono braccia e piedi e quindi si forma diciamo questo angioletto non che tutti i progetti siano celestiali potrebbero essere anche dei diavoletti però mi piace pensarlo più come un angioletto abbiamo che questo omino ha una testa e un corpo la testa è il livello del project level in questo livello dove abbiamo diciamo la conduzione della guida del progetto abbiamo in alto il business sponsor cioè il nostro titolare che dice voglio l'app però noi non possiamo tutti i giorni andare dal nostro titolare a dire sì però ho aggiunto il pulsante per la login ti piace quindi il titolare delega la vision del proprio progetto e anche gli obiettivi che vuole raggiungere il return of investment al business visionary che condurrà diciamo il dialogo con le persone coinvolte nel progetto anche il business sponsor verrà coinvolto ma verrà coinvolto per dare una validazione non per tutti i giorni rispondere alle domande per questo c'è il business visionary fa da contrattare al business visionary il technical coordinator che è colui che ha una visione più ad ampio spettro dell'infrastruttura dell'architettura tecnica del nostro progetto cioè se la nostra app va a integrarsi in un in un'architettura informatica che già abbiamo è inutile potrebbe essere ritenuto inutile per questa attività utilizzare un linguaggio nuovo una tecnologia nuova un cloud provider nuovo che è quello che poi vorrebbe fare lo sviluppatore parte un progetto nuovo facciamo tutto nuovo perché il technical coordinator è quello che un po' tira le file ed ha un'omogeneità oppure consente l'eterogeneità della soluzione tecnica il project manager sarà colui che tira le file del progetto quindi definisce il delivery plan organizza i meeting quindi ha proprio l'onere di coordinare diciamo di gestire determinate fasi del progetto passando alla parte di corpo dell'omino abbiamo che fa da anello di congiunzione tra la testa quindi il collo tra la testa e il corpo il business analyst che riceve le specifiche di business e le traduce specifiche tecniche verifica la fattibilità soprattutto nella scrittura dei documenti nella produzione dei documenti il business analyst è molto coinvolto perché è colui che deve avere la conoscenza del dominio ma anche la conoscenza tecnica per poter dire questa cosa è fattibile questa cosa no con che sforzo e saper tradurre l'esigenza di business in una esigenza tecnica in una soluzione tecnica fa da contraltare al business visionary all'interno del solution development team il business ambassador che sarà colui che è il punto di riferimento a livello di business all'interno del solution development team e sarà lui che ogni giorno verrà tartassato dagli sviluppatori per sapere sì ma cosa vuole in questo punto sì ma come deve essere gestita questa interazione quando clicco sul pulsante senza ogni volta andare a rompere tra virgolette le scatole al business visionary o addirittura al business sponsor che a volte è anche inarrivabile per cui chi fa la parte tecnica di sviluppo i solution developer e i solution tester quindi i solution developer può essere uno possono essere mille no massimo sei abbiamo detto li sforiamo sono coloro che effettivamente implementano la soluzione per per mettere in piedi diciamo per dare forma alla soluzione richiesta dal cliente e il o i solution tester sono coloro che si occupano dei test non dei test unitari dei test unitari se ne occupa il solution developer i test i solution tester si occupano di tutti i test che riguardano diciamo l'accettazione ad esempio degli acceptance criteria ad esempio oppure test stress test quindi test veramente che vanno a verificare che ciò che è richiesto dal business visionary e quindi dal business sponsor venga messo a terra alle condizioni definite magari dal technical coordinator il team leader che è al centro di questo solution development team non è il responsabile del rilascio bensì è colui che ha la sensibilità di capire se all'interno del solution development team tutto funziona bene o non va bene qualcosa e di dare un po' il ritmo per cui sarà il team leader a convocare le riunioni gli stand up la mattina ad esempio e sarà il team leader assieme a tutto il solution development team a spostare le card nella kanban board ad esempio ma non sarà lui il responsabile dell'incremento ha solo un ruolo di coordinamento di gestione del solution development team a supporto del project level ma anche del soprattutto del solution development team abbiamo quattro ruoli che sono il technical advisor è un team di supporto che si occuperà poi anche di dare supporto una volta rilacciato il progetto ai clienti e che ci può dare quella sensibilità durante lo sviluppo per fare le scelte giuste ad esempio se noi usiamo questo determinato fonte sai se i clienti l'apprezzano no hanno già detto che il times new roman nell'interfaccia nei siti web non piace quindi usciamo scegliamo un altro un altro faccio un esempio sicuramente forzato però ci può dare quelle informazioni legate alla conoscenza di quanto il cliente apprezza o meno parte di questo progetto o progetti futuri mentre il business advisor ci darà quelle indicazioni a livello di business che ci consentono di dare forma alla nostra soluzione mi spiego meglio se il business visionary ci dice dobbiamo rendere il nostro software compliant al GDPR nessuno di noi sa niente a livello di GDPR e nessuno di noi vuol mettersi lì a studiarsi le regole del GDPR per cui magari si contatta una società di consulenza che ci dà che non ci dice come implementare il GDPR ma ci spiega come funziona il GDPR quindi ci dà questa consulenza questo supporto specifico su determinate tematiche di business ruoli di supporto sono il workshop facilitator e il DSDM coach il DSDM coach è l'analogo dello Scrum Master quindi fa sì che l'approccio di SDM venga condiviso e applicato durante lo sviluppo del progetto mentre il workshop facilitator è un ruolo che viene assunto da più persone e che è quello di facilitare appunto gli workshop è importante ricordare quindi voi mi dite quindi per per portare avanti un progetto di SDM servono almeno tutte queste persone no questi sono i ruoli un ruolo ogni ruolo deve essere coperto tutti questi ruoli devono essere coperti una persona però può avere più ruoli e i ruoli quindi possono essere anche condivisi per dire il solution development team non deve essere una persona possono essere più persone e magari uno dei solution developer può essere anche business ambassador ok se siamo uno e partiamo dall'essere sia business sponsor perché abbiamo avuto l'idea fantastica di fare l'app che sconfiggerà il covid fino a essere DSDM coach di me stesso avrò tutti i ruoli su me stesso perché sono un one me show se siamo in dieci probabilmente questi ruoli sono distribuiti sui partecipanti del nostro progetto se addirittura il progetto è più grande avremo più solution development team e quindi il project manager avrà anche l'onere di gestire più solution development team per portare avanti la soluzione dare un cappello dare un'etichetta ai ruoli che una persona ricopre è anche molto importante per capire dove sono le criticità a livello umano del nostro progetto ed eventualmente anche i silos cioè se siamo in dieci nove sono solution developer e uno fa tutti gli altri ruoli sia azzurri che gialli che verdi caspita se quello lì domani se ne va o diciamo si succede qualcosa abbiamo un buco perché lui ha tutto va bene che è tutto condiviso però caspita se porta avanti tutto lui a livello di business a livello di analisi eccetera diventa un problema per cui è anche utile dare questi nomi questi tag per capire come sono come sono diciamo distribuite responsabilità e interessi all'interno del nostro team quindi diciamo che i ruoli sostanzialmente questi ruoli ci sono tutti all'interno del nostro team i prodotti cosa sono i prodotti sono i documenti i documenti anche in questo caso sono davvero tanti per cui se vi siete spaventati vedendo i people quindi la colonna precedente a questo punto è veramente un disastro perché tutti quelli riquadrati di rosso ci sono i documenti da produrre ma state tranquilli perché molti di questi già li facciamo in modo inconsapevole perché cosa significa questo significa che ogni fase del mio progetto quindi avremo pre-project feasibility foundation evolution development eccetera hanno sono una colonna di questo di questa linea del tempo mi sentite scusate sì e diciamo ad ogni di queste fasi abbiamo l'inserimento della produzione di un documento nella fase di pre-project abbiamo il termo preference ad esempio dove il business sponsor andrà a scrivere quali sono gli obiettivi per questa applicazione nella fase di foundation e nella fase di feasibility usciranno sei documenti a coppie per gli interessi di business solution quindi tecnici o di management e da queste due fasi usciremo con due documenti che sono il feasibility assessment e il foundation summary feasibility assessment è il report della fase di feasibility il foundation summary è il report della fase di foundation e saranno quelli che verranno dati a chi ha commissionato il progetto per dire sì procediamo iniziamo a scrivere codice gli altri sei riquadri che vediamo nelle colonne feasibility e foundation sono quelli che riguardano gli interessi di business quindi abbiamo il cosa e il come portare avanti gli interessi di business con il documento del business case e del prioritized requirement list il cosa e il come portare avanti la parte tecnica con i documenti del solution architecture definition e development approach definition e cose come portare avanti il management con delivery plan e management approach definition questi documenti sono veramente documenti però saranno quelli che ci consentiranno un anno dopo aver deployato il progetto se dobbiamo fare una modifica di capire cosa avevamo fatto non dovendo andare a guardarci tutto il codice ma ad esempio a livello architetturale di guardare il solution architecture definition per capire qual è l'architettura del nostro software e come avevamo affrontato lo sviluppo con il development approach definition e quindi dire ok durante questa fase c'eravamo anche avvalsi della collaborazione di questa società che possiamo contattare ancora e non dobbiamo per forza andare a chiamare il project manager di allora o il technical coordinator di allora e chiedergli come si chiamava la società che avevamo perché è tutto scritto è tutto trasparente le user story che come abbiamo detto dopo la feasibility sono 10 e dopo la foundation saranno un centinaio sono all'interno di un documento e la prioritized requirement list che già oggi abbiamo è la Kanban board di Jira di GitHub di GitLab quindi è una Kanban board qualsiasi il business case è quello che vogliamo dal nostro progetto quindi il valore che vogliamo estrarre è produrre e il return of investment del nostro progetto e la parte management è come il delivery plan quindi come decidiamo di rilasciarlo con le tempistiche e come decidiamo di gestire la parte di management abbiamo dei canali dedicati una newsletter per condividere come stiamo andando a chi devono arrivare le mail affinché tutti siano informati ma non ci sia sovraccomunicazione poi si parte nella fase di sviluppo dove avremo i vari report relativi alle review a livello di sprint e a livello di rilascio ciò che andremo a rilasciare dovremo taggarlo in qualche modo e chi fa sviluppo software usa un tool di controllo della versione userà i tag userà i branch per avere diciamo un punto nel quale sappiamo che abbiamo fatto questo incremento e il codice lo troviamo lì la soluzione deployata in qualche modo un link per capire qual è la versione deployata avere un tag da qualche parte nel sito per capire a che versione siamo quindi vedete non tutti questi documenti sono veramente documenti cartacei che devo stampare e mettere in un faldone o mettere in google drive ma alcuni sono dei tag però è utile avere una strategia cioè tutti i nostri progetti avranno dei tag per indicare cosa entra in uno sprint magari gli stessi tag che sono che vanno a arricchire le card della prioritize requirement list così posso a livello di backlog andare a vedere quali sono le carte che sono entrate in questo sprint e vedere anche quali sono i rilasci che sono entrati in questo sprint e insomma quindi legare in qualche modo avere una strategia che leghi tutte le informazioni che relativa al progetto e quindi che ci permetteranno in futuro di abilmente muoverci e potere anche diciamo partire da uno stato dal terzo incremento per creare diciamo un prodotto un prodotto in modo alla fase dopo il deployment avremo la creazione di un pacchetto di deploy sostanzialmente di un container in un registry di un qualcosa diciamo che mi santifichi quel deploy e che mi permetta di deployarlo ogni volta e alla fase di post project avremo un documento i benefit of benefit assessment che mi consenterà di raccogliere le metriche chi si occupa di tutti questi documenti c'è una matrice RACI che e qui basta sono rimasto da solo nel talk che praticamente mi permette di dire chi fa cosa chi controlla il documento eccetera ma a parte la paura di vedere questa matrice RACI che fa venire anche a me la pelle d'oca e non l'ho mai guardata nel dettaglio però è abbastanza immediato capirlo perché il termo preference l'autore sarà il business sponsor cioè quello che mi dice cosa voglio dire però invece di dirlo può essere una mail può essere che il business sponsor mi manda le mail io prendo la mail e la metto in un documento di drive però sappiamo che tutti i documenti avranno un termo preference avranno un business case cioè tutti andiamo a dare una struttura ai nostri progetti uno stampino che poi andiamo ad adottare in tutti i nostri progetti per per avere un'omogeneità nella loro gestione il documento di cui vi parlavo prima il pack è quel documento che si permette di capire se il team accetta sposa l'approccio di SDM e sono tutta una serie di domande alle quali posso dire sì sono d'accordo noi non sono d'accordo o le sfumature intermedie e permettono come detto al project manager di capire dove sono eventuali sacche di resistenza oppure se l'approccio non è veramente idoneo per questo progetto perfetto mi direte mamma quanta roba tanti documenti no non lo faremo mai però poi guardi in giro e comunque la gente parla di documenti e parla di scrivere documentazione sia con questo modello C4Model sia con il documentare delle decisioni architetturali comunque c'è questa necessità di andare a documentare in base all'esperienza appunto e quindi se noi iniziamo a farlo fin dall'inizio alla fine ereditiamo tutto e lo facciamo diciamo in modo incrementale durante tutta la vita del progetto evitiamo di dover documentare tutto alla fine e poi magari di esserci persi dei passaggi fondamentali che poi quando andiamo a riprendere in mano il progetto dopo un anno diciamo ma perché non facciamo questa cosa ma mi ricordo che il TAD aveva detto che forse non si poteva fare ecco se l'avessimo scritto adesso dedicando un'ora alla lettura di qualche documento lo sapremo se siete arrivati fino a qui adesso inizia di nuovo la parte le pratiche previste dal DSDM sono modeling sviluppo iterativo il Moscow per dare priorità alle card il time boxing e il facilitated workshop cos'è il modeling il modeling è dare una rappresentazione visuale a un problema o una soluzione e a cosa serve serve per passare da uno stato Antani a un qualcosa che riesco a capire di cosa sto parlando cioè mi serve una pagina che mi faccia vedere tutti gli ordini ok aspetta un attimo tutti gli ordini cosa dovevo far vedere sì tutti gli ordini con la descrizione ma anche il prezzo certo sì ma anche l'iva allora aspetta un attimo stiamo passando da uno stato Antani che ha in mente solo qualcuno e andando a chiarire chi cosa come perché andiamo a aprire questa scatola del mistero in modo tale che emerga diciamo la soluzione o addirittura o il problema nel mondo software abbiamo dei tool per fare wireframe o per fare mockup che ci consentono pure di visualizzare in modo chiaro questo stato Antani nel mondo non software siamo fortunati perché in Italia abbiamo uno dei più grandi professionisti del modeling che è Bruno Vespa e lui ogni sera ci fa vedere un modeling diverso e ci permette di capire comunque come verrà costruito il ponte di Genova come si è ribaltata la nave Concordia o altri mille scenari quindi ci dà una rappresentazione visuale di un problema o della soluzione che verrà adottata l'evolving solution come detto e qui vi tranquillizzo perché è quello che fate tutti i giorni se adottate lo Scrum abbiamo il nostro progetto abbiamo determinati incrementi e la fase di evolution di development è costituita da diversi sprint al termine dei quali avremo una fase di deploy e il modo migliore per far evolvere una definizione ad alto livello delle card che sono uscite dalla fase foundation per arrivare spezzettandole in task a capire quali sono veramente le esigenze di business caratteristiche dell'iterative development sono il planning il controlling e il testing quindi planning è dare un delivery plan o una pianificazione al mio sprint controlling è avere un sistema di gestione delle configurazioni che mi permetta di tornare indietro diciamo in modo agevole di fare un revert e di non dover ripartire al decimo mese del progetto dal primo mese perché abbiamo sbagliato a modellizzare il database o il business avere diciamo delle review con team che ci permettano di raccogliere feedback e di migliorare l'iterazione dopo interazione e di fare testing dei casi positivi quindi quello che deve funzionare deve funzionare test negativi ciò che non deve funzionare non deve funzionare ciò che non deve essere permesso non deve funzionare e degli unhappy path cioè ad esempio gli stress test cioè capire se domani mi raddoppiano i clienti se il sistema va giù o meno avere questa indicazione per la priorità si usa la tecnica del Moscow nella quale abbiamo il must have che definisce quali feature sono necessarie e senza le quali la soluzione non è rilasciabile perché semplicemente potrebbe essere non legale potrebbe essere insicura quindi ciò che è definito come must have deve essere rilasciato should have sono feature che se non vengono rilasciate danno sicuramente dei problemi al nostro cliente ma possono essere aggirati con dei work around quindi la soluzione funziona è sicura è legale e sicuramente avrà delle parti che non verranno molto apprezzate da chi utilizzerà il mio software però riusciamo a rilasciare quello che serve al cliente cioè il valore quello che è veramente più di valore per il cliente could have sono tutto ciò che ha impatto minimo quindi se non lo rilascio non importa peccato diciamo perché sarebbe stato un prodotto migliore però se non ce la facciamo pace e will not have è quello che non entrerà in questo time box in questo increment o in questo progetto è molto esplicativo il this time perché effettivamente la priorità Mosco è a livello di time frame quindi la priorità definisce la contingency all'interno di quella time box all'interno di quell'increment o all'interno di quel progetto mi spiego la login sarà un must have a livello di progetto ma potrebbe essere un could have a livello del primo incremento e per cui all'interno delle prime due time box del primo incremento che è costituito da tre sprint sarà will not have will not have e could have ad esempio quindi anche le card e i task non avranno sempre fare la stessa priorità ma verranno adeguati alle esigenze del cliente ma anche al momento storico in cui sono nel momento dello sviluppo e l'importante è che ciò che è must have arrivi alla fine un buon consiglio che viene dato è quello di caricare di sprint con un po' di must have un po' di should have un po' di could have lo vedremo in seguito e se siamo in ritardo e se il cliente a metà del progetto ci dice sì ma voglio anche questo seguirà una comunicazione importante state attenti tenetevi forte ai braccioli perché la data di consegna non si sposta perché perché tempi e costi sono dei constraints che abbiamo definito all'inizio quindi ciò che si sposterà ciò che scambierà saranno le feature che entreranno quindi si ridefiniscono le priorità e si farà the scoping cioè si dirà ok stiamo andando in ritardo purtroppo per questi questi motivi che sono tra l'altro documentati in tutto il flusso dei product visti prima ok come facciamo a rispettare tempi e costi ok questa attività che pensi che è must have diventerà should have perché ripensandoci bene ok non è così vitale per la vita del progetto oppure non caricheremo delle attività should have accollandoci il rischio di dover gestire eventuali minacce il DSDM definisce anche il formato degli sprint non entra nel formato delle stringhe stavo dicendo stringhe perché tutto il giorno che è il programmo e quindi c'è i tipi nella testa degli sprint definisce un formato free che è praticamente lo sprint dello scrum quindi dove avremo una fase di sprint planning che è chiamata kick off la fase di iterative development di tutto il nostro progetto e la fase di sprint review che è chiamata close out ma dà delle indicazioni aggiuntive facoltative e dice dedicate il 10-20% dello sforzo di ogni sprint a una fase di investigation un 60-80% alla fase di sviluppo e un 10-20% alla fase di consolidation quindi di creare gli sprint per i rilasci cioè non dedicate quattro settimane e quattro settimane allo sviluppo ma ritagliatevi dei tempi stimate anche attività che sono legate all'analisi e alla consolidation quindi al rilascio o al testing come vi dicevo prima all'interno di un time box la raccomandazione di SDM è di avere un 60% di issue must have un 20% di issue should have e un altro 20% di issue could have occhio che tornino perché alla fine tutti i must have dovremo appunto rilasciarli alla fine della time box dell'incremento il business sponsor si aspetterà che tutti i must have ci siano definiti e gli should have ce ne sia il più possibile quindi occhio a concentrarci troppo sui could have quando la priorità sono gli altri due infine a livello di pratiche a livello di workshop il DSDM ci consiglia di fare workshop facilitati che sono meeting di gruppo strutturati con un obiettivo definito condiviso prima del meeting cioè non strutturo il meeting e poi dico oggi siamo qua a discutere di ma nel convocare il meeting dico già quali saranno gli obiettivi che vogliamo portare a termine in un tempo che deve essere confinato in una time box ben predefinita e con un facilitatore naturale il facilitatore deve essere una qualsiasi delle persone presenti può essere una delle qualsiasi presenti nel team di sviluppo naturalmente può essere anche esterno se è una persona all'interno del team di sviluppo bisogna avere l'accortezza che il facilitatore non sia anche colui che dovrà poi beneficiare della soluzione che viene presa in quel meeting altrimenti il suo bias andrà diciamo a stradare volente o nolente la decisione finale il facilitatore dovrà avere delle capacità diciamo di comunicazione quindi dovrà essere un buon comunicatore dovrà saper gestire un team dovrà avere la propensione per farlo dovrà piacergli questa attività e dovrà poi fare delle meeting note che andranno a dire cosa è stato deciso nel meeting e tutti i partecipanti dovranno leggere e dire se sono d'accordo o meno con quello che è emerso quindi anche l'attività di pianificazione deve essere fatta attraverso degli workshop e deve essere molto collaborativa ma vi do un'altra comunicazione molto importante e dovete ricordarvela soprattutto se fate project management è che gli workshop hanno un costo cioè pianificare gli workshop anche a livello di pianificazione che viene fatta in fase di foundation è molto importante perché se il mio business visionary è in Canada e io ogni settimana decido di fare un incontro di allenamento in persona quando sarà finito il covid per discutere determinate attività questo è un problema perché questo dovrà venire da Canada ad esempio e quindi dovremo dargli almeno una buona DSL per fare delle chiamate con zoom o con teams e quindi dovremo fare tutte queste valutazioni a livello economico perché quindi questi workshop hanno un costo le persone ferme le persone che collaborano anche in base ai ruoli coinvolti nello workshop hanno un costo quindi valutatelo bene perché bisogna fare attenzione al budget il budget è uno dei due constraints tempo e costo che ci siamo dati all'inizio del progetto infine il testing se siamo bravi 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 come Emanuele facciamo test driven development e quindi andiamo a capire capendo diciamo qual è il test scrivendo il test vado veramente a capire qual era la funzionalità che volevo sviluppare e quindi scrivendo il test ho anche chiaro faccio emergere tutte le necessità di business e vado a chiarire e quindi poi produco codice che in automatico è testato al 100% ma ci sono tanti altri test i test ad esempio collaborativi prima del rilascio potrei avere degli early adopter che mi fanno dei test su una versione che sanno essere in beta ci sono delle regole da rispettare come test che vengono ripetuti ad ogni ad ogni push su Gita ad esempio e i test che devono essere indipendenti cioè il risultato di un test non deve legarsi al test precedente perché se i test vengono eseguiti in ordine alla fine non è che stiamo facendo dei gran test i test devono essere appunto casuali e devono dare sempre verde anche i test vanno messi in priorità cioè non perdiamo passatemi il termine non perdiamo tempo a fare tutte queste sei attività di testing se caspita abbiamo dei tempi strettissimi a livello di rilascio quindi andiamo a dare priorità a quale di queste strategie di test vogliamo fare affinché la soluzione sia il più sicura possibile e diamo la possibilità di avere dei test integrati che vengono eseguiti ad ogni rilascio e che ci dicano in tempo reale se abbiamo o meno rotto qualcosa quindi abbiamo introdotto una regressione se siete arrivati qua vi faccio i complimenti siamo alla fine vediamo un po' quali sono i vantaggi e gli svantaggi che secondo me ha questa metodologia sicuramente ha richiesto un maggior formalismo abbiamo sicuramente un overhead nella definizione dei ruoli nel dare i ruoli nella gestione appunto di questi ruoli nella gestione dei documenti nel definire cosa vogliamo fare o meno perché il tailoring è comunque ammesso anche nei documenti possiamo fare il tailoring possiamo decidere di applicare il tailoring minimo che comporta solo due documenti che sono il prioritizer requirement list e il delivery plan però poi se non tagliamo tutte le release che facciamo o non facciamo dei brands dedicati nel momento in cui andiamo in produzione dobbiamo saperlo che abbiamo omesso volontariamente determinati documenti e che potremmo avere poi dei rischi quindi sì abbiamo un maggior formalismo però secondo me dalla mia esperienza è più una paura perché ci sono tante cose evidenziate che non puoi identificare quello che facciamo tutti i giorni cosa già facciamo e semplicemente dichiararlo secondo me questa modalità ci consente di crescere senza problemi ci consente alla nostra azienda di crescere senza problemi perché se tutti i progetti avranno il loro il loro diciamo formato quindi abbiamo dei documenti che non dobbiamo inventarci di volta in volta nel formato nelle modalità abbiamo definito quel documento e lo andiamo ad adottare in tutti i nostri progetti poi se un progetto vecchio non ce l'avrà perché decidiamo che per quel progetto non ci dà valore e decidiamo introdurlo nel prossimo ma sappiamo che in quel progetto lì andando a cercare questo tipo di documento non lo troverò e pace avremo deciso di non applicarlo però andremo a cercare determinati documenti e non informazioni in una pagina confluence di 700 miliardi di righe quello che voglio passarvi come concetto per chi è appassionato di videogiochi è che secondo me lo step che dobbiamo fare è un po' come quando avevamo Super Mario Bros piccolino e colpendo il punto di domanda diciamo del cubetto sopra di noi usciva il funghetto cioè tutti noi stiamo già applicando una metodologia ma io sto giocando lo stram e va benissimo così non sto dicendo che non va benissimo così ma e guardate che il Super Mario Bros piccolino se vi ricordate in certi scenari era perfetto perché passava sotto gli spazi angusti e non dovevamo accucciarci quindi sicuramente era anche più veloce se non ricordo male quindi sicuramente Super Mario Bros ha i suoi vantaggi sicuramente l'adozione della nostra modalità dello scrum della nostra modalità zombie dello scrum ha i suoi vantaggi ma l'adozione di questa metodologia più strutturata ci consente di fare quel passettino in più Mario Bros una volta che prende il funghetto nella versione 2 se non ricordo male se prendeva il fiorellino poteva anche sparare le palline se invece era piccolino poteva semplicemente diventare grande quindi l'adozione di questa metodologia un pochino più strutturata ci consente di avere la possibilità di fare un ulteriore passo avanti quindi di essere già pronti per fare un ulteriore step successivo altrimenti rimarremo a un uso all'uso che stiamo facendo dello scrum e diciamo l'applicazione base 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 dello scrum ci permette di stare lì e non evolvere sì ok però diciamo di rimanere lì evolvere magari con qualche scelta dolorosa quindi per chi è appassionato di cartoni oltre che di videogiochi riporto questa frase di Buzz Lightyear le procedure sono le forze che ci dividono dalle forze malvagie del caos non è che stiamo gestendo lungi da me la volontà di dire che stiamo gestendo in modo caotico i progetti ma sicuramente gestire un progetto in un modo l'altro in un altro modo e l'altro in un altro ancora quando i progetti poi diventano tanti diventa caotico e dovete sempre mettervi nei panni di chi arriva per ultimo e questo progetto lo trovo gestito in un modo e l'altro gestito in un altro modo ancora quindi se abbiamo delle procedure sicuramente il caos ci sarà comunque ma sarà ridotto vi lascio solo questi due link se volete approfondire la tematica di stasera vi invito a seguire il nostro blog a iscrivervi alla vostra newsletter se non ci conoscete a guardare il nostro sito nuovo www.codiceplastico.com che è bellissimo l'abbiamo appena rifatto e anche quello diciamo è proprio una un documento che vi spiega come di solito approcciamo i progetti in un modo veramente molto informale e agile vi ringrazio per l'attenzione se avete ulteriori domande sono qui oppure potete contattarmi all'indirizzo mail che vedete in quest'ultima slide grazie mille grazie a te Gianni wow molto interessante molto esaustivo sinceramente non conoscevo personalmente di Gianni questa metodologia e sono bastante interessato quindi mi sa che andrò ad approfondire ok condividere anche i feedback se scopri qualcosa vuoi condividerli molto volentieri perché comunque imparo ogni giorno dalla condivisione perfetto grazie mille c'è una domanda di Fabio ciao grazie Gianni mi è piaciuta la presentazione avevo una domanda un po' specifica sulla priorizzazione delle attività quindi ci hai detto giustamente che cambiano a seconda del timing che si adotta quindi un'attività che in uno slot più corto può avere una priorità bassa a livello di uno slot più grande invece potrebbe essere un must have esatto questa differenza di etichette all'attività come viene gestita allora dobbiamo sempre pensare ai due ai due livelli che abbiamo cioè abbiamo le storie che sono quelle sono le 100 che escono dalla foundation e che vengono gestite con un dialogo con il con il cliente cioè nel mentre lo sviluppo il solution development team porta avanti l'implementazione di queste storie qualcun altro quindi qualcuno a livello di project level andrà a periodicamente verificare col cliente che effettivamente le priorità che aveva definito all'inizio dell'iterative development che dura quattro settimane sino ancora le stesse e se non vengono modificate vanno via liscia nel momento in cui vengono prese in carico queste storie per la fase di iterative development e quindi vado a caricare di task il team di sviluppo e questi task mi porteranno a una soluzione deployabile una soluzione rilasciabile a dare forma all'esigenza del cliente man mano evolvo in questa fase di iterative development andrò a definire la priorità mi spiego se la card è definita come must have quindi entra in quel 60% di card che devo must have che devo portare a termine nel primo nella prima iterazione quella card in base a come approccerò lo sviluppo di questa attività andrò a spezzarla in task e questi task saranno must have nella prima time box oppure will not have nella prima time box perché questo task non posso neanche farlo perché non ho tutta una serie di attività che mi permettono di implementare ciò che la storia must have vuole al termine dell'iterative development quindi la storia must have nel primo incremento perché il cliente la vuole fin da subito perfetto allora la storia must have vado a spezzarla in tanti task e questi task saranno must have should have in base alla time box in base quindi al portare a termine questa storia nell'incremento naturalmente tu carichi di task la tua time box e carichi quelli che sono i must have i should have e i could have nelle proporzioni indicate dalla metodologia però se a metà della time box ci troviamo a capire che non stiamo andando bene i daily stand up servono proprio a capire se ce la facciamo o meno a rilasciare tutto questo e eventualmente fare the scoping anche a livello di time box e quindi dire ok questa card questo task non riusciamo a farlo nella prima nella prima time box quindi di rivedere la priorità come può rivederla diciamo il project manager col cliente a livello di storie può rivederla anche il solution development team a livello di task per fare the scoping quindi togliere e arrivare a ciò che è must have alla fine della time box e quindi alla fine dell'interactive development cioè la parola che deve guidarti nella definizione della priorità è la contingency cioè questa storia e questo task quanto sono importanti in questa fase del progetto se sono vitali allora sono must have se sono ok la possibilità di cambiare il tema del mio sito forse non è vitale col primo rilascio forse non è vitale anche a livello di progetto ma magari il fatto che non sia vitale a livello di progetto magari ti esce nel corso dei rilasci quindi dei cicli di evoluzione di development ok grazie quindi in realtà non è solo una questione di tempi ma anche di granularità dell'attività esatto vanno portate avanti di pari passo quindi e anche a livello di test cioè i test devono essere comunque messi in priorità tutti vorremmo avere fin dal giorno zero tutte le metodologie di test con anche gli stress test che girano però dobbiamo anche capire lo stress test ci serve in quello che dobbiamo fare cioè se adottiamo ad esempio non so un cloud provider siamo sicuri di buttare giù il cloud provider se dovessimo aumentare da 10 a 100 utenti probabilmente no quindi uno stress test potremmo metterlo in priorità inferiore rispetto a fare una buona suite di test integrata nel ciclo di sviluppo dell'applicazione quindi tutto può essere messo in priorità grazie ci sono altre domande facciamo andiamo in ordine Fabio Fabrucci ciao grazie ciao Fabio a parte il fastidio che stavo cercando di aggiornare il tuo Chrome ma questo è un problema che risolverò in autonomia il volevo chiederti il pre project con Prospect con cui non hai mai lavorato è un'attività molto costosa come fai in un ambito RFP dove la gente va in giro dicendo ho la mia idea di applicazioni mobile dimmi quanto costa perché devo andare anche da un'altra tienda e devo andare anche da un'altra tienda quali leve o sulla base della tua esperienza usi per cercare a di vendere il valore di quell'attività e b se ce la fai a vendere al cliente quell'attività allora diciamo quindi che siamo già nella fase di feasibility perché nella fase di pre project il cliente mi dice sostanzialmente ciò che vuole quindi se arriva da me con una richiesta io devo validare se io sono in grado diciamo di soddisfare le esigenze del cliente per cui quello che posso fare è in massima trasparenza capire dalle esigenze del cliente quello che quello che c'è e iniziare a dare queste dieci user story che naturalmente ritengo che sia feasible il mio questo progetto per la mia realtà dare queste dieci attività che consentono al mio cliente di avere questi dieci step che gli consentono di chiarificare fin da subito come intendo evolvere il progetto cioè se questo qua mi viene a dire voglio un'app esattamente come come facebook perfetto vado a prendere tutte le tutte le feature di facebook le metto cerco di farcele stare in dieci user story anche se sarà molto difficile e gli dico ok ti faccio queste qua sono tutte le feature che vuoi ok ci impiego sette anni e ti costerà 4 miliardi di euro se puoi andare da un altro vai da un altro diciamo che serve proprio la massima trasparenza per dire ok riesco a fartelo in questi tempi con questi costi spannometricamente mi dai il via allora non il via programmare il via entra nel dettaglio allora mi dai ancora qualche settimana per andare nel dettaglio della della come si chiama della soluzione però già da questa fase usciamo con dieci storie che sono che il cliente può già mettermi in priorità e magari iniziamo già a dirgli ah ma allora aspetta non volevi anche la possibilità di pubblicare degli annunci pagamento nel tuo social network super mega innovativo ok volevi semplicemente avere una chat ok aspetta allora che di queste dieci andiamo a prenderne solo tre e quindi andremo nella fase foundation a a sviscerare diciamo i temi relativi a quelle tre e magari sulle altre potremo portare avanti in un secondo progetto non in tutta franchezza non ho gestito questa fase in progetti in essere ma essendomi inserito su progetti già avviati questa fase di di contrattazione iniziale te la dico per come l'ho presa e per come mi sono anche ho fatto queste domande ho cercato di darmi delle risposte sulla documentazione diciamo e al corso che ho seguito altro altro non c'è no ci sono dei consulenti che ti dicono se nella fase di feasibility il cliente non è quello che fa per te meglio perdere il cliente che non piangere poi un anno per dover per forza portare avanti quel progetto grazie se però scopri qualcosa di più volentieri condividi c'è un'altra domanda di Lorenzo Nicoletti vai Lorenzo stavo parlando come al solito col microfono muto intanto grazie Gianni è stato molto molto interessante ho scoperto che hai mentito in realtà sei un bravissimo oratore per cui non è la prima volta che lo facevi allora no è sincero la mia domanda in realtà è molto simile a quella di Fabio guarda caso abbiamo lo stesso direttore commerciale ed è la questione di la fase di feasibility chi la paga la paga il cliente o è gentilmente offerta dall'azienda e eventualmente riuscite a vendere anche il primo giro di foundations ma allora di questi aspetti sinceramente non me ne occupo io in azienda quindi non so al massimo mi informo e ti rispondo quello che ho preso dalla certificazione è che questa fase perché questa domanda è uscita anche dai partecipanti del corso e l'indicazione è stata valutata in base al progetto cioè se la fase di feasibility ti costa mezza giornata perché ti chiedono sei capace di farmi cosa ne so un sito tra virgolette banale ok giornata mezza giornata faccio quello che devo fare posso anche tra virgolette prendermi l'onere di portare avanti la feasibility senza addosserti cose certo che se tu mi dici vorrei fare una nuova ferrovia che vada a Milano a Mosca forse sei giorni per la feasibility sono anche pochi ti dico a meno che ti dica oh sì ti faccio metto i binari metto le listerelle di legno poi ci metto sopra il treno fatta la feasibility forse sono anche pochi questi e quindi in questo caso sì forse la feasibility per questo tipo di progetto viene fatta pagare perché richiede probabilmente un tal coinvolgimento di persone e un tal coinvolgimento di competente che non può diciamo essere accollata dall'azienda però anche qui dipende sostanzialmente forse anche da che azienda sei e anche dalla priorità che ha questo cliente a livello di portafoglio diciamo ok ma in realtà è proprio quello che succede noi abbiamo altri nomi e metodologie come dicevi assomigliano certe parti questa mi è piaciuta molto molto strutturata e abbiamo delle attività che cubano più o meno queste giornate e a volte lo usiamo come filtro cliente nel senso che se non puoi pagarci questo allora probabilmente non sei il nostro cliente a volte proviamo a proporlo e se funziona molto bene altre volte ci interessa talmente tanto per cui va bene così offriamo il primo giro provo a immaginare uno scenario un'azienda che ti dice fammi questa implementazione però la voglio per forza fatta in un linguaggio di programmazione definito dall'azienda magari a noi aziende interessa approfondire quel linguaggio di programmazione quindi diciamo caspita si accettiamo facciamo anche la feasibility gratuita tra virgolette ma cerchiamo di portarci avanti perché è un progetto proprio che ci interessa come dici te potrebbe essere però un ottimo scoglio per dire sì se non riesci a pagarmi la giornata di feasibility probabilmente poi avrò dei problemi più avanti a livello di progetto e quindi è meglio risolvere subito lo scoglio iniziale dipende proprio da realtà realtà progetto progetto grazie a te e soprattutto non dipende dallo sviluppatore credo che non siano altre domande a meno che qualcuno che non ha alzato la mano ok Gianni che dici va benissimo comunque se avete altre domande volete condividere diciamo anche darmi un feedback su come è andata la sessione o condividere diciamo vostre perplessità dubbi o scoperte molto volentieri la mail è questa mi trovate sui social benvenga vi ringrazio in anticipo grazie a te Gianni direi che possiamo possiamo chiudere per stasera come ha detto Gianni scriveteci feedback sia direttamente a lui che anche a Nescold se volete ci trovate anche a noi sui canali e mi raccomando se avete intenzione qualche specie da proporre fateci pure andate sul sito fate la call pro speaker e mandateci le vostre proposte che poi vi faremo vi daremo il nostro feedback vi ringrazio e buona buona serata a tutti a presto grazie a tutti buona serata ciao 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 grazie ciao ok bene ma il bestemmione a metà non so chi è stato non ho capito chi è stato tra l'altro mi è venuto in mente quella puntata di Lundini non so se è presente il personaggio in cui compariva un un nano dietro che diceva va bene va bene lui cercava poi per lo studio chi era stato si è sentito benissimo ma secondo me qualcuno che è entrato sul momento di fatti stavo cercando stavo cercando per mutarlo perché appena entrato e sentivo un rumore di fondo e poi invece non ho fatto in tempo mutarlo caspita vabbè sicuramente farò prendere like alla serata diventa virale questa è la prima volta che ci capita l'esperienza in genere devo dire che è divertente infatti caspita ho perso il filo del discorso perché c'è la testa è andata là ero là piccavo la bestia in più sul momento ho avuto un attimo di depagliastra che poteva dire non so caspiterini oppure non so mamma guarda che la pasta la mangia tra mezz'ora e invece no ok sto ancora registrando tra l'altro meglio che sto con la registrazione è meglio che ne parto un'altra ok 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 Grazie a tutti.